Siamo nel complesso delle case popolari edilizia ERP, insomma, come si dice in gergo tecnico, di Via degli Accolti ad Arezzo. Alle sue spalle c'è una zona transennata perché c'è stato, dobbiamo dire, l'ennesimo crollo, cioè si sono dispersi, insomma, dei calcinacci. Sì, nei giorni scorsi c'è stato un nuovo crollo di parti di intonaco ammalorato che da anni ormai sono frequenti in questa struttura delle case popolari. case popolari che ormai hanno oltre 40 anni e che non vengono fatti interventi di manutenzione da molti anni. Ecco, noi siamo stati anche all'interno, c'è un problema di muffa, ci sono degli oblo che non sono mai stati nella parte, insomma, delle scale, mai stati rimessi a posto. Cosa chiedete all'amministrazione comunale? Quello che chiediamo, innanzitutto, sarebbe bello capire se il sindaco Ghinelli o l'assessore Manneschi vivrebbero nelle condizioni in cui vivono questi cittadini. E poi chiediamo all'amministrazione, visto che ha risorse a disposizione proprie, che metta queste risorse a disposizione di Arezzo Casa per effettuare interventi di manutenzione straordinaria a questo edificio e non solo a questo edificio, ma anche altri edifici di edilizia popolare che sono in condizioni simili a questo di Via degli Accolti. Porterete tutto questo anche nell'Assise, quindi in Consiglio Comunale? Sì, chiaramente presenteremo un'interrogazione all'assessore Manneschi per capire quali sono le intenzioni dell'amministrazione per mettere nelle condizioni i cittadini delle case popolari di vivere in condizioni decenti.